Simon Anzani, a distanza di una settimana precisa, l'Italia torna una vittoria rotonda e meritata, piena. Sì, sì, noi arrivavamo da una prestazione, penso, un po' a due facce ieri contro la Polonia. Un po' ci è bruciata perché comunque abbiamo dimostrato che potevamo combattere e portare a casa la vittoria ieri, però la palla vuole uno sport è così, quando si fanno due o tre in perfezione set troppo dopo le paio. Oggi dovevamo rifarci, dovevamo rifarci, ce l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato che anche a ranghi ridotti, una squadra totalmente nuova, con un allenamento sulla spalle, siamo riusciti a dimostrare un bel gioco e questo è il risultato finale, è quello che abbiamo dimostrato. Siamo uniti e così facendo dobbiamo pensare che le prossime partite potremo fare ancora meglio e potremo portare a casa altri vittori. Complimenti, grazie.